Lo sapevi che Goldust non ha mai vinto a Wrestlemania? Contando anche i dark match e quelli non della card principale, l'atleta ha perso nelle edizioni numero 12, 13, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 31, 32, 33 e 34. 12 sconfitte e zero affermazioni, anche se negli ultimi anni il wrestler era semplicemente uno dei tanti buttati allo sbaraglio nella Battle Royal dedicata alla memoria di André The Giant.